Fabio Nurra, rinomato chef sassarese dopo aver fatto un giro formativo tra Roma e Costa Smeralda, è tornato in patria. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Fabio Nurra torna in patria. Lo chef sassarese rifà tappa nella città natale dopo il cooking show tra TV con Alessandro Borghese, Costa Smeralda e Roma, con una serata di piatti tradizionali nel cuore di Sassari Vecchia. Sono molto emozionato perché diciamo che la mia carriera nasce proprio qua, attorno a questi palazzi storici. La definizione di chef gli sta però stretta o larga e allontana da sé i paragoni con le star della cucina sul piccolo schermo come Canna Paciolo o Cracco. Amo definirmi osse perché il mio lavoro è principalmente quello di fare il ristoratore e fare accoglienza e nell'accogliere i miei ospiti amo anche dedicarmi alla cucina e preparare degli ottimi manicaretti. Il nuovo corso della cucina mischia continenti e saperi, tendenze che Fabio non rifiuta ma partendo però sempre da una ricetta base. Il territorio è la semplicità, è la stagionalità, è l'olio buono, è pochi fronzoli ma tanta sostanza. La cucina è semplicità, la semplicità è il lusso. E a confermarlo uno dei piatti forti della serata da Tolas, sul ministro. La fregula grossa fatta a mano, il brodo di pesce con crostace e molluschi appena cotti messi sopra, impreziositi con la scorzetta di limone. Quello è un piatto molto semplice però è un piatto antico. La fregula grossa La fregula grossa